Io sono nato in Senegal da una famiglia pescatore anche mi ha preso il gusto di andare in mare ma di lì ho puntato sempre l'occhio in avanti io non ho limiti per me devi spingere sempre in alto tanti oggettivi ma c'è sempre una più avanti e voglio raggiungere tutte ma tutte ma non basta ancora vuole sempre arrivare in su e spero che ce lo farò arrivare lì sempre in alto